carissimi benvenuti mi chiamo diego benevelli e oggi ho il piacere di accompagnarvi nella nostra opportunità nel settore del benessere e di fare in modo di vedere se anche per voi oggi può essere il giorno migliore come lo è stato per noi come lo è stato per la persona che ti ha indicato di seguire i prossimi venti minuti quindi ti chiederei di metterti in modalità no pregiudizio no limiti di metterti comodo fuori da distrazioni di ascoltare attentamente perché potrebbero esserci davvero delle informazioni nuove innovative per migliorare come abbiamo fatto noi anche la tua vita e non solo la tua quindi ti diamo il benvenuto oggi mi auguro potrà essere il tuo giorno il tuo giorno migliore allora per iniziare questa questa introduzione c'è un dato fondamentale quindi adesso io mi tolgo dal dal video e entreremo nel nel vivo della nostra presentazione bene ormai sono 14 anni che promuoviamo il settore del benessere e mai come oggi è veramente importante soffermarci su questo dato il nostro benessere è sotto attacco questo senza ombra di dubbio un adulto su cinque in italia obeso in svizzera il 41 per cento della popolazione adulta è sovrappeso tra gli adolescenti il 19 per cento sono sovrappeso addirittura obesi 800 mila sono i decessi a causa dell'inquinamento dell'aria in europa ogni anno il 33 per cento dei decessi in italia sono dovuti su un milione e duecentomila persone semplicemente da uno stile di vita errato la capacità di reddituale diminuisce la possibilità di fare impresa diventa un po più complicata per i giovani anche per i meno giovani donne e uomini il risparmio diminuisce quindi anche di conseguenza avere maggiori entrate economiche e addirittura averle continuativi come rendita quindi noi quello che vogliamo creare abbattere eccessi e carenze riequilibrare attraverso un'opportunità indipendente attraverso un qualcosa di davvero utile per tutti che necessita tutti che tutti vogliono che tutti amano e la cosa importante che scoprirete che tutti riordino quindi il nostro primo obiettivo è quello di fare in modo di migliorare qualche giorno all'interno dei vol del vostro mese perché no iniziare magari guadagnare i primi 100 euro i primi 200 euro che possono fare veramente una grande differenza quindi benvenuti nel nostro viaggio in zizia isogenics come lo facciamo promuovendo benessere secondo l'organizzazione mondiale della sanità il benessere è un diritto fondamentale non solo per la cura ma anche benessere a 360 gradi come piano sociale dell'individuo e infatti noi operiamo andiamo operare su queste quattro sfere della vita andiamo a migliorare queste quattro sfere della vita salute benessere bellezza quindi quante persone conoscete attente alla cura personale che al quale interessa un'alimentazione corretta che desiderano più energia meno stress sentirsi più in forma che vogliono semplicemente prendersi cura e portare una sana abitudine nella propria vita quotidiana di conseguenza si trasforma in un nuovo stile di vita ci sono tante persone che vanno in palestra che si vogliono che sono attive e anche noi possiamo migliorare personalmente il nostro stile di vita quindi un migliore stile di vita aiuta a vivere meglio lo sviluppo personale potremmo soffermarci ore 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 se non mesi anni ma la cosa importante è la consapevolezza oggettiva conoscere un nuovo modo di creare reddito quindi non avere il paraocchi aprire il paracadute non limitarsi alle opinioni degli altri ma rendersi conto sì che anche tu in questo momento anche se sei seduto a casa tua nel tuo ufficio o stai ascoltando questa presentazione diciamo col tuo smartphone con la tecnologia anche se non in un modo tradizionale ma comunque in un modo evoluto del 2020 stai ricevendo un'opportunità sarà poi dipenderà da noi personalmente fare una scelta dare una risposta ad una domanda chiara quindi lo sviluppo personale è importantissimo se voi pensate che i social fino a qualche anno fa pochissimi li utilizzavano oggi il mondo si muove su social su facebook su instagram su twitter pensate che oggi addirittura il santo padre può dare un ciao e un benvenuto attraverso il social libertà economica nessun vincolo di tempo anche qua non vogliamo vendere false promesse ma una cosa importante noi esistiamo da oltre 15 anni e quello che diciamo è testimoniato dai fatti quindi una cosa molto importante un supplemento economico aiutare le persone a migliorare la propria vita ad avere un reddito extra provate a immaginare semplicemente avere 200 euro in più 300 euro in più fine mese 500 euro in più fine mese bene è possibile se apriamo la mente ci rendiamo conto che abbiamo veramente qualcosa di straordinario quindi il giorno migliore si rivolge a tutti indipendentemente in primis a tutte le persone e poi che tu sia un dipendente un libero professionista una casalinga un'imprenditrice una studente un studente una persona che vuole realizzare un sogno a livello autonomo ma non ha le possibilità economiche per aprire un'azienda bene qui puoi iniziare con piccoli semi e trasformare la tua opportunità in qualcosa che dura anche tutta la vita in un qualcosa di davvero importante abbi buona cura del tuo corpo è l'unico posto in cui dovrai vivere quindi c'è una domanda al quale noi tutti abbiamo dato una risposta vuoi migliorare c'è qualcosa che puoi migliorare anche tu in queste quattro sfere della vita se sì sei il benvenuto sei la benvenuta bene anch'io parlo con i fatti come vedete questa frase è straordinaria quando si tratta di nutrirsi in modo corretto e fare esercizio fisico non c'è un inizierò domani domani è la malattia anch'io non ho realizzato questo risultato in 15 giorni ma semplicemente dando una risposta ad una domanda diego vuoi prenderti cura di te stesso e pensate che prendendosi cura di noi stessi quindi migliorando il nostro stile di vita ci stiamo anche creando un'opportunità che crea guadagni residuali il tutto nasce nel 2005 attraverso che in bresford che in bresford un uomo conosciuto nel mondo per aver inventato l'incapsulamento vegetale lo è scritto nel suo libro la cosa importante che ha creato due aziende una nel 1970 una nel 1975 tuttora in vita ma nel 2005 attraverso un video di discovery channel scopre la moringa olifera la moringa olifera è una pianta straordinaria nel mondo viene chiamato miracle tree l'albero miracoloso è la madre la madre dei superfood pensate che le foglie di questa pianta moringa olifera hanno il potenziale di salvare milioni di vite grammo per grammo hanno nutrienti micronutrienti importantissimi per la nostra vita per migliorare il nostro corpo il nostro benessere in generale 7 volte più vitamina c delle aranci 20 volte più vitamina a del tofu 25 volte più ferro degli spinaci insomma è veramente il superfood più completo sul pianeta terra pensate che contiene 92 nutrienti accertati 46 antiossidanti 36 anti infiammatori aminoacidi i 20 aminoacidi tra cui 9 di cui 9 essenziali gli omega 3 6 9 provate immaginare cosa possono fare nel nostro nel nostro organismo questi sono alcuni dei 90 benefici per la salute verificabili promuove l'abbassamento del colesterolo rafforza il sistema immunitario normalizza lo zucchero nel sangue maggiore lucidità mentale veramente se leggete i benefici nessuno nessuno si può chiamare fuori abbiamo un altro nutriente veramente fondamentale importantissimo unico che talvolta diamo per scontati è l'acqua pensate che l'acqua è il nutriente più importante al mondo l'acqua da vita a qualunque cosa genera vita pensate che è importantissimo l'85 per cento del nostro cervello si nutre di acqua l'80 per cento del sangue 75 per cento dei muscoli il 30 per cento delle ossa bene l'acqua da vita e da vita anche i semi che di conseguenza danno vita alla nostra moringolifera e pensate che la moringolifera viene anche nominata nella bibbia e sì perché mi raccoltri non solo per i nutrienti che ha foglie e frutti ma guardate attentamente questi 40 50 secondi di video mi raccoltri non solo per i nutrienti che'�� Sì, avete capito bene. Miracle Tree perché in tutto il mondo i semi possono essere utilizzati per purificare l'acqua, anche l'acqua fecale. Ci sono dei documenti incredibili anche sul nostro website dei video e le spiegazioni medico-scientifiche e provate a immaginare che noi siamo fatti di acqua. È un'equazione veramente vitale, importantissima. Zija ha una miscela segreta. Zija ha creato una miscela segreta che combina diversi elementi dell'albero della moringa, quelli più importanti foglie, semi e frutti. Qui nell'immagine a destra vedete il contenuto che poi viene trasformato in polvere solo delle foglie all'interno del nostro super mix, la miscela brevettata unica al mondo che contiene foglie, semi e frutti. Bene, noi abbiamo una grande opportunità tutta al naturale. Nessuno si può chiamare fuori. Tutti hanno bisogno, necessità e amano questi prodotti. E tutte le persone che vogliono prendersi cura di se stesse qui possono avere il meglio. La moringa, non solo, ma anche il mangostano, the king of fruit, con i suoi oltre 43 xantoni, i più potenti antiossidanti in natura, presente nella carginia mangostana. Quindi è un guerriero contro i radicali liberi. E sulla sinistra il nostro strumento di benessere straordinario, trasformato in un cerotto, CBD, trasformato in un cerotto trasdermico H24. Quindi non dobbiamo assumere nulla attraverso goccio oralmente, ma semplicemente applicarlo sulla pelle, con effetti, benefici veramente incredibili. La persona che vi ha invitato a valutare la nostra opportunità di informazione ha tutte le schede in italiano, ha tutte le informazioni per potervi mostrare realmente il potere di questi tre superfood. Quindi nasce un'opportunità globale nel 2005. Siamo 15 anni che seminiamo, 15 anni di testimonianze, di successo, 15 anni che promuoviamo benessere a 360 gradi. Il 2020 è un anno veramente particolare. È new beginning, cioè un nuovo inizio. Io lo definisco l'anno primo, anche se sono già passati i 15 anni. Il 23 gennaio Zizia annuncia una fusione con un'azienda straordinaria nel settore del benessere di nome Isagenix. Isagenix il 24 marzo ha compiuto, pensate, 18 anni di attività. Isagenix si occupa anch'essa nel settore del benessere con piante adattogene, con ingredienti adattogeni, nutrienti raw, quindi frutta e verdura specifici, veramente straordinari, che abbinati alla moringa, il mangostano, il CBD di Zizia, veramente creano un ventaglio di scelta per le nostre attività, per i nostri clienti, davvero di primo livello a livello globale. L'obiettivo di Isagenix Zizia si pone un importante obiettivo di ispirare e responsabilizzare le persone affinché adottino uno stile di vita sano e benessere generale e aiutare le persone ad uscire da difficoltà economiche attraverso un'opportunità per tutti. I nostri strumenti sono appunto superfood che fanno stare bene le persone ogni singolo giorno. Se noi accumuliamo gli anni di esperienza di queste aziende, pensate oltre mezzo secolo, 58 anni di esperienze, di fatti, messe a disposizione di chiunque in oltre 40 paesi del mondo. Una cosa che mi ha colpito di Isagenix, pensate che abbiamo 50 scienziati full time che lavorano nell'azienda per creare qualcosa di davvero unico, unico, avrete la possibilità poi nel dettaglio di scoprirli. Abbiamo oltre 600 clienti negli Stati, scusate, dipendenti negli Stati Uniti, 800 a livello mondiale. Un qualcosa di davvero grande, un progetto importantissimo dove esserci, avere la lungimiranza di salirci a bordo oggi porterà grandi soddisfazioni nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi pronti partenza e impact che tu voglia un'esperienza unica con i prodotti, tu voglia provarli, tu voglia sentire se realmente sono potenti, forti per migliorare il tuo benessere, la tua energia, ok sei benvenuto, oppure puoi anche scegliere attraverso le nostre soluzioni di diventare un associato. Ma qualunque sia la tua scelta, cliente o associato, per noi sei il benvenuto. Hai la possibilità senza compromessi di scegliere una delle nostre plant-based solutions, le nostre soluzioni a base botanica. Che tu voglia perdere peso, che tu voglia aumentare la massa muscolare, che tu voglia rinforzare le ossa o semplicemente per una nutrizione generale per te e per i tuoi figli, che tu voglia utilizzare gli oli essenziali diciamo per il tuo benessere personale, nella casa, utilizzarli come battericide nel nostro purificatore. Quindi la cura personale, l'igiene personale, per chi vuole avere più energia e lucidità mentale, per chi fa già attività sportiva, per chi fa palestra o per chi si muove, aiutare il nostro organismo a vivere meglio e vivere più in salute. Le nostre plant-based solutions sono veramente incredibili. Vedete sulla sinistra in senso orario il Supermix. Supermix è la miscela segreta, foglie, semi e frutti, biodisponibile al 100%, significa che le nostre cellule assorbono al 100%, enzimaticamente attiva, è una confezione di 32 bustine, è veramente questo prodotto da anni alla nostra vita, è vita dei nostri anni. Poi abbiamo il Prime, poi abbiamo il nostro straordinario Mangostano, quegli Xantoni, uno dei più potenti antiossidanti al mondo, sul pianeta. Abbiamo Triotic, specifico per il nostro sistema immunitario. Abbiamo i nostri oli essenziali, abbiamo il tè detox che è utilizzato prima di andare a letto, veramente è il detox per eccellenza del nostro organismo e voi sapete quanto è importante in primis disintossicare il nostro organismo e tutto questo attraverso la purificazione dell'acqua nel nostro corpo. Il plant protein, le 9 aminoacidi essenziali, vegan formulation, direttamente dalla moringolifera. Qui sulla destra vedete delle soluzioni che possiamo scegliere, dove abbiamo la possibilità di risparmiare, fare un po' più di esperienza su vari prodotti, quindi posso scegliere il kit con il Premium Tea e il Supermix, ma la cosa importante vi voglio mostrare attraverso, adesso mi rimetterò un attimo in video, una cosa bellissima. Questo è l'oxango, reserve, basta metterlo in un bicchierino e ho dato il top al mio organismo. Supermix nell'acqua, straordinario. E il cerotto, chi non può mettere questo cerotto? Di tutte le persone che conosciamo, se comprendono e li sensibilizziamo sul valore di utilizzare questi tre prodotti anche in sinergia, anche solo uno, si può iniziare con uno, con due, con tutti quelli che si vuole, però guardate, semplicemente applicando un cerotto possiamo creare un business incredibile. Bene, ritorno, ritorno in modalità nascosta. Bene, dai un impact positivo alla tua vita. A noi ci piace definire sblocca il tuo giorno migliore, la sfida dei 30 giorni, iscrivi e vinci. Quindi oggi ti puoi iscrivere, scegliere la tua soluzione, iniziare a portare una sana abitudine quotidiana nella tua vita e se vorrai connettere tre persone alla persona che ti ha invitato qui, ti aiuterà a creare questa straordinaria sinergia. Fuori ci sono centinaia di migliaia di persone che desiderano avere prodotti come nostri, desiderano avere un'opportunità per migliorare la vita come la nostra e ti basteranno tre persone con 150 punti l'una e voilà, potrai guadagnare e in più l'azienda come premio il mese successivo ti invierà, hai capito bene, 200 euro di prodotto gratuito. Quindi puoi migliorare qualcosa nel tuo primo mese di attività, verificare come arrivano i soldi, verificare quello che diciamo è reale, quindi vedere come l'azienda ti manda 200 euro di prodotto gratuito è una soddisfazione enorme poter utilizzare prodotti di così alto o alto livello anche gratuitamente. Quindi il sistema è semplice, passando attraverso questo sistema voi potrete anche, perché no, è una scelta, attivare quello che si chiama reddito residuale. Ovviamente oggi non avremo il tempo di entrare nel dettaglio, ci sono diverse cose da sapere, ma sbloccare il reddito residuale attraverso delle azioni che facciamo ogni singolo giorno. Fiscia paga il nostro passaparola, quante volte parliamo di tante cose ma non siamo pagati? Nei social stessi possiamo creare una comunità che opera nel settore del benessere, persone che consumano il prodotto, persone che ne parlano ad altre persone e noi essere ripagati con royalties anche per tutta la vita. Quindi se condividerai con due persone diventerai builder, se condividerai con tre persone diventerai builder e in più riceverai 200 euro di prodotto gratuito il mese successivo. Quindi you share, they share, tu condividi e loro condividono. Questo sistema ci può portare attraverso varie informazioni, attraverso varie azioni, ovviamente non è casuale, anche sino a 13.500 dollari ogni singola settimana. Bene, questa è la piattaforma gratuita e esclusiva per il nostro team, quindi drinklifingurope.com, tutto in italiano, potrete leggere chi è Zizio, Isagenix, i momenti storici, la moringa, tutti i prodotti, le esperienze personali e le testimonianze, quindi è gratuito. Questo sito non è utilizzato per registrare ma semplicemente per informare. Abbiamo anche un gruppo su Facebook dove potete attraverso la persona che vi ha invitato entrare, aderire, conoscere, ricevere informazioni e leggerle quando voi desiderate. Quindi non c'è momento migliore di prendersi cura del proprio corpo in quanto è l'unico posto in cui dovremo vivere tutta la vita, quindi viviamoci alla grande, al meglio. Questa frase l'ho fatta mia, ho smesso di ascoltare i giudizi degli altri quando ho provato a pagare le bollette con le loro opinioni. Sì è vero, potrebbe sembrare retorica, ma non dobbiamo ascoltare le opinioni degli altri in quanto se no non esisterebbero, ci sarebbero ancora forse le ruote di legno, non esisterebbero le lampadine, non esisterebbero gli smartphone che ormai il telefono, telefonare è diventato un'opzione, si può fare qualunque cosa, comprare, andare dal dottore, fare qualsiasi cosa. Quindi aprite la mente, prendete per mano la persona che vi ha invitato oggi e ditegli io voglio iniziare, voglio portare un beneficio nella mia vita, aiutare altre persone. Perché no? Quindi se quello che hai ascoltato ha valore, secondo te è importante, secondo te ha toccato qualcosa dentro di te, bene, non tenerlo segreto per te, puoi inviare questo link ovviamente con l'introduzione, perché non vogliamo fare spamming, non vogliamo fare volantinaggio virtuale, ma invialo a 3, 5, 10 tuoi amici, falli presente che tu hai deciso di migliorare la tua vita, di portare il miglior giorno nella tua vita. Quindi il miglior giorno è quando conosci qualcosa di valore, qualcosa di nuovo e qualcosa per tutti. Io vi do il benvenuto, sono certo che sarete contenti, sono certo che qualcuno che ha ascoltato questa presentazione oggi avrà la possibilità di migliorare la vita come l'abbiamo migliorata a noi. Grazie a tutti voi, grazie di essere stati qui con noi e grazie anche alla persona che vi ha mostrato questo link.